Aldo racconta 9 gennaio 2022. Guardate dove sono, sono arrivato a piedi da Baggio, un quarto d'ora, 20 minuti a piedi attraversando un ponte. Ebbene, 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 guardate quest'angolo di senso naturalistico, ma guardate che bel viale. Ebbene, sono, scusate della Croce Rossa, se ne va, se ne va, scusate. Stavo facendo il video, niente, ricontinuo a fare il mio video, nonostante il rumore di una Croce Rossa in questa oasi di pace dove non si sente nessun rumore automobilistico. Sembra di essere in campagna. Ebbene, sono, guardate la bacheca, la cascina Paradiso, proprietà privata. Vedo di fronte a me due bei cavalli in un prato. Sentono la mia voce, i cavalli, un animale che mi piace, ma soprattutto mi piace essere a contatto con questo bel viale che io mi sto incamminando da solo verso questi alberi che si elevano più su, più su. Poi, tra neanche due mesi, si vedono i primi germogli. Ebbene, sono in una città, in una città come Milano, in questo angolo che sembra un paradiso. Come è detto il nome. Mi sto incamminando e guardo di fianco a me delle cose strane. I cippi, eccoli qua. Ma devo dire, devo dire che mi piace questo luogo. Come senso di relax, di pace. E qui verrò a fare dei bellissimi quadri. Guardate il cielo di oggi. Oltre che avere la piccola casetta d'orio, appartengo in questa zona, una mia piccola proprietà, ma piccolo locale, dove io posso fare il mio habitat pittoresco. Guardare questa bella panchina che ho di fronte di marmo dell'epoca passata. Poi mi incammino tra un raggio di sole, un po' di ombra. Oggi si sta benissimo. Sono qua verso Muggiano, da Baggio a Muggiano. È un luogo incantevole. Ma devo dire che qui, qui mi hanno tratto questi cippi. Comune di Monzoro. Eccolo qua. Uno è questo. È un viale anche alberato. Di sera illuminato, volevo dire. Qua c'è un altro cippo, appartenente a un altro comune. E però, 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 guardo quest'epoca del passato, dove io vivo oggi in un'epoca moderna dell'anno 2022. Comune di Baggio, sì, perché allora Baggio faceva sé. Oggi appartiene alla città metropolitana di Milano. E poi mi incammino e voglio fotografarvi, soprattutto un luogo qui molto incantevole, che mi piace, mi piace tantissimo. La Baccheca, che ha scritto una persona molto bene la scritta, molto bene. Mulino del Paradiso, la Braschetta. Ok, ok. C'è tutto il luogo, la storia del luogo e la storia. Ah, ecco, voglio fare il dipinto come l'inbasso. Come quel dipinto in basso, voglio svolgerlo anch'io. L'ho fotografato bene, l'ho messo bene in vedenza nel YouTube. La cascina all'interno, dove a giorni, appena viene una temperatura tiepida, posso fare qui, soggiornare e stare qui, ad ammirare l'interno di questa bella cascina, dove il passato vive nel presente. Però a me interessa soprattutto farvi vedere il mulino. Il mulino che c'è qui. Eccolo qui. Il mulino di una volta. Chiamavano questa zona la cascina del Paradiso perché passava una corrente d'acqua e dava la facoltà di lavorare ai residenti che c'erano, alla famiglia soprattutto, che c'era in questo casolare. Era come un paradiso avere il mulino e l'acqua corrente. Ma devo dire che io sono io stesso, oggi in Paradiso. Devo stare attento perché c'è un po' di pantano. Non scivolo, ma l'importante è fare un bel video. Eccolo qui, il lavoro del passato. Che bello, che bello. Ho voluto stare in situazione. Ho sentito un attimo per i fatti che sentivano la mia voce e potevano, dato che è una proprietà privata, magari potevano dirmi qualcosa. Ma ho conosciuto un signore molto simpatico qua. Mi ha detto lui stesso, lui stesso. Vieni qua a disegnare, fai quadri su quella panchina là che ho di fronte. Eccola là, la panchina di marmo con la parte sottostante di un piccolo torrente, un piccolo fluire dell'esistenza vitale. Io l'acqua la chiamo parte dell'esistenza vitale perché se non ci fosse l'acqua predominante nel nostro organismo e nel modo di vegetare non ci sarebbe la vita. Ecco la panchina di marmo dove io risiedo attualmente a fare un bel picnic e sottostante vedo il fluire della mia vita, l'acqua. E per quello questa cascina è denominata cascina paradiso. Ma guardate com'è bello qui. Ma guardate, ma guardate il sole di oggi. E vi fotografo ancora questo lungo viale che sono venuto a piedi percorrendo da Muggiano a qui a piedi. E l'ultima volta, l'ultima volta, vi fotografo ancora il quadro dell'interno della cascina dove io poi farò dei quadri. Ecco. Vorrei leggervi, ma YouTube se lungherebbe troppo. Vi saluto dal mulino del paradiso, la Braschetta. Aldo, Aldo, Aldo. Aldo, Aldo.